Lo scrive Joe Porchetta, leggetelo o mi taglio le vene, salve Pino, dopo la tragica rottura tra Samuele e Claudia, ora anche Angelica e Ferdinando del GF si sono lasciati. Hai ragione che questo mondo sta peggiorando, basta vedere queste conti ed ammirare che si lasciano. Ho rischiato di infarto appena mi è giunta la notizia, mi sono preso anche quattro giorni di malattia, cosa faccio Pino, da giochi? Joe, io consiglio te lo darei, darti fuoco, però prima di darti fuoco mandati affanculo da solo, ci guardiamo i poison, something to believe.